Sicuramente è un'esperienza che ci ha aiutato ad uscire dal contesto familiare e anche a imparare, quindi a vivere da soli e riorganizzare anche il proprio tempo in funzione di tutto quello che poi comporta il vivere in maniera autonoma. L'esperienza è stata molto positiva, quello che mi porto con me è il fatto di essere cresciuta proprio come persona, prendere consapevolezza di cosa vuol dire portare avanti una casa, quindi le difficoltà e i compiti che questo comporta. È anche un momento in cui puoi stare più a contatto con te stesso, quindi scoprire il tuo carattere forse un pochino meglio, quindi sia pregi che i propri difetti e limiti e lavorare su questi.